Volevo presentarmi. Sono Will Newman. Due metri di distanza in ogni momento. Conoscete le regole. Fammi indovinare. Tu sei il tipo che non rispetta le regole, così pensi di avere il controllo. Mi sbaglio? Non ti sbagli. Credi che sia carino? E tu credi che sia carino? Buongiorno, mondo. La mia funzionalità polmonare è scesa al 35% ora. Le persone con la fibrosi cistica devono stare almeno a due metri l'una dall'altra per non trasmettersi i batteri. Niente ci salverà la vita, Stella. Respiriamo aria in prestito. No, io mi rifiuto di pensarlo. Posso vedere la tua terapia? E questo cos'è? Mi farà impazzire. Faremo la terapia insieme, così so che la stai seguendo veramente. Sempre in cerca di un modo per passare più tempo con me, eh, Stella? Non dirmi che l'unica volta che ti interessa un ragazzo ha anche lui la fibrosi cistica. Sono contenta di vederti così. Così come? Ottimista. Perché non ho portato niente di carino? No, perché sei sempre pronta per un appuntamento galante in ospedale. Sei bellissima. E forte. Vorrei poterti spiorare. State lontani. A due metri di distanza, lo so. Se ti prendi la sua infezione, puoi dire addio ai nuovi polmoni. Non siamo ragazzi normali. Non ci capitano occasioni come questa. Per tutto questo tempo ho vissuto per fare la terapia. Invece di fare la terapia per poter vivere. E io voglio vivere. Tutto quello che voglio è stare con te. Ma non posso. Dopo tutto quello che la fibrosi cistica mi ha tolto, ho il diritto di prendermi qualcosa indietro. Un passo. Solo un metro più vicini. Allora è iniziare a chiamare. Anche. Allora è iniziare a chiamare. Buruto quello che ho vissuto. Tutto tutto quello che puro... Decere la competenza.